Come tu descrivi un po' la volata da ieri? Ma è stata sicuramente una bella occasione per me purtroppo, purtroppo l'ho sfruttata così e così se si vince verrà meglio però una bella soddisfazione. Oggi ancora un'occasione per tu o per Sasha Modolo? No sicuramente il capitano è Sasha e poi vedremo strada facendo, se ci sarà qualche problema insomma mi butterò io. Ieri tu hai dimostrato la forma, è bene la forma, l'ultima vittoria per tu nel 2012 per la fiducia, è buona? Ma sì, l'ultima vittoria è stata il Giro d'Italia, poi mi sono ritagliato un altro ruolo che comunque a me piace, che è quello di tirare le volate, però ovviamente se mi si dà l'occasione cercherò di sfruttarla al meglio. Un'etapa più importante per tu su questo Giro? Ma adesso sai, ci sono ancora 4-5 tappe per velocisti sicuramente, ognuna di queste è un'occasione per noi e bisogna sfruttarla al meglio.